Il PD di Terra di Bari riparte dai circoli e dalle amministrazioni locali, dalla squadra di lavoro agli obiettivi fissati per il prossimo futuro. A garantirlo Domenico De Santis che nelle scorse ore ha presentato la sua candidatura alla segreteria provinciale del Partito Democratico per i congressi che si svolgeranno dal 10 al 22 ottobre. A sottoscriverlo il consigliere regionale Francesco Paulicelli ha la sua prima esperienza in via gentile tra le fila del PD. Tra i punti del candidato segretario l'attenzione ai giovani, il recupero del rapporto di continuità con i luoghi di lavoro e i circoli di paese che, come spiega lo stesso Paulicelli, diventano fulcro essenziale per radicare il partito sul territorio. Da oggi si deve scrivere una nuova storia, una nuova pagina, ripartendo dai circoli che saranno al centro. Ho chiesto sia al segretario regionale ma anche al segretario provinciale di tenere al centro delle discussioni i circoli. Io sarò per loro una spina nel fianco, nel vero senso della parola, perché penso che i circoli siano al centro di questa nuova ripartita, ma anche e soprattutto l'aiuto delle amministrazioni. Dobbiamo tutelare gli amministratori locali, le amministrazioni di centro-sinistra e magari far allargare la platea dei sindaci del PD nella terra di Bari.